Nel corso della seduta di giunta di oggi il governo Schifani ha fissato le date delle prossime elezioni amministrative in Sicilia. Nei 129 comuni coinvolti si andrà alle urne domenica 28 maggio dalle ore 7 alle 23 e lunedì 29 dalle 7 alle 15. L'eventuale ballottaggio si svolgerà nei giorni 11 e 12 giugno. Le date sono state individuate su proposta dell'assessore alle autonomie locali Andrea Messina. La tornata elettorale coinvolgerà 4 capoluoghi di provincia Catania con 6 circoscrizioni di quartiere Ragusa, Siracusa e Trapani. 5 comuni sono attualmente gestiti da commissari straordinari di nomina regionale mentre uno, quello di Barrafranca nell'Ennese, è amministrato da una commissione prefettizia perché sciolto per mafia. Complessivamente sono 19 i comuni della provincia di Catania nei quali si andrà al voto. Incluso il capoluogo sono 7 i centri al di sopra dei 15.000 abitanti. A C. Sant'Antonio, C. Reale, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania e Mascaluccia. I 12 comuni nei quali si andrà al voto con sistema maggioritario sono Camporotondo Etneo, Castel di Udica, Maletto, Mineo, Piedimonte Etneo, Riposto e ancora San Cono, San Gregorio di Catania, Santa Venerina, Sant'Alfio, Valverde e Via Grande.